E' stato preso certamente dal panico il conducente dell'Audi A6 che ieri pomeriggio intorno alle 17 alla vista di una volante della polizia ha bruscamente invertito il senso di marcia dando vita ad un inseguimento. La fuga spericolata è continuata per circa 12 km lungo la Frigole San Cataldo fino a quando l'auto inseguita ha nuovamente invertito il senso di marcia percorrendo in contromano la strada in direzione di Frigole a velocità decisamente sostenuta. Gli agenti infine sono riusciti a bloccare il veicolo nella zona di Torre Chianca. Il conducente, un leccese di 44 anni, è stato beccato sprovvisto di patente perché mai conseguita e con il veicolo privo di assicurazione. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida senza patente e resistenza pubblico ufficiale. Al termine dell'operazione i due agenti hanno addirittura riportato lesioni seppur lievi a causa della velocità che li ha fatti balzare sui sedili dell'auto di servizio.